In novembre l'anno scorso ero a Wuhan e mi ero accorto che c'era un strano movimento nei reparti di terapia intensiva non comune rispetto agli anni precedenti. C'erano dei pazienti strani con polmoniti strane. Dopo poco in effetti il governo cinese descriveva la presenza di un inizio di un'epidemia da parte di un nuovo virus che veniva poi sequenziato, cioè identificato molto bene, nel gennaio del 2020. Immediatamente capì che c'era effettivamente una situazione molto pericolosa. Pubblicamo un lavoro su Lancet, che è una rivista molto importante per noi medici, raccomandando di stare preparati soprattutto nelle terapie intensive. Avevo scritto «Sivis pacem parabellum» «Se vuoi la pace prepara la guerra». E in effetti la guerra è arrivata. È arrivata dopo poco perché, come sapete, l'11 marzo è stata proclamata la pandemia a livello mondiale e è stato attivato il lockdown nel nostro sistema, un lockdown che ha protetto per certi versi da un'espansione della pandemia, ma che per altri versi, come sappiamo, ha causato una serie di sofferenze sul piano sociale e umano in generale. Questo virus intanto per cominciare in molti pazienti è asintomatico e questo rappresenta un problema perché è difficile identificare un possibile portatore e un possibile soggetto che può causare contagio. In altri casi ci troviamo di fronte invece a pazienti che hanno dei sintomi molto lievi, sfumati, che potrebbero essere quelli di un raffreddore o di un'influenza comune. Alcuni pazienti, come dicevo, soffrono di una patologia molto leggera, disturbi, un po' di tosse, naso chiuso, qualche linea di febbre e questi pazienti in passato li avevamo semplicemente monitorati, mentre oggi stiamo eseguendo dei test molecolari e non solo per diagnosticare l'avvenuta infezione e l'avvenuto contatto con il virus. Questi sono quei pazienti che noi chiamiamo pazienti positivi, pauci sintomatici, detta in termine tecnico. Bene, rimane però il fatto che in una certa percentuale dei casi noi abbiamo dei pazienti che lamentano delle sintomatologie più importanti e la sintomatologia più importante è una fame d'aria, è una carenza di ossigeno, è un paziente che ha degli scambi polmonari difficoltosi perché sviluppa una vera e propria polmonite virale. Questo è un paziente che se non esistono ulteriori complicazioni può essere ricoverato certamente in ospedale, seguito anche con somministrazione di ossigeno, ma può essere un paziente che con ogni verosimilianza in un reparto di medicina può essere adeguatamente ventilato e seguito fino a un miglioramento dei sintomi e sperabilmente anche alla guarigione. Esiste poi una percentuale di questi pazienti che vengono ricoverati e alcuni arrivano direttamente da domicilio con delle difficoltà respiratorie gravissime per cui necessitano di essere rapidamente intubati e mandati in rianimazione. Intubati che cosa vuol dire? Vuol dire che una ventilazione esterna con dell'ossigeno non è più sufficiente. Noi abbiamo migliaia e migliaia di alveoli che sono le unità che funzionano all'interno del polmone che hanno naturalmente la necessità di ricevere l'ossigeno, ma di riceverlo a un flusso e a una pressione tale per cui il danno non sia superiore al beneficio. Ma questi pazienti hanno in comune un fatto che spesso e volentieri il virus, che come abbiamo visto è un virus che entra attraverso le vie aeree e danneggia primariamente il polmone e il suo tessuto intestiziale entrando proprio nel tessuto dei polmoni e limitandone le capacità di scambio fra ossigeno nell'aria e l'ossigeno nel sangue. Bene, questi pazienti tendono a sviluppare altre patologie organiche. Ma com'è possibile? Lo spieghiamo subito. Prima di tutto la polmonite in sé rappresenta certamente un elemento distintivo, ma sappiamo anche che questi pazienti in alcuni casi vanno incontro appunto a ventilazione meccanica o addirittura in qualche caso devono addirittura avere una ossigenazione del sangue in un circuito extracorporeo in cui il sangue viene circolato in uno speciale ossigenatore. Tutte queste terapie causano spesso e volentieri una risposta infiammatoria che potrebbe anche danneggiare non solo i polmoni ma anche altri organi. Ma parlando di risposta infiammatoria è proprio questo che il virus causa. È vero che il virus si può localizzare a livello del rene, è stato documentato, a livello del fegato e di altri organi. Ma sembra che il danno che viene prodotto a livello dei diversi organi sia rappresentato soprattutto dal fatto che da un lato si attiva una forma di coagulazione, quindi di aggregazione di componenti del sangue nella circolazione anomala e patologica. E questa provoca dei trombi, delle occlusioni a livello di diversi organi. Dall'altro c'è una risposta del sistema immunitario, delle difese dell'organismo che addirittura diventa eccessiva, diventa talmente importante che questa risposta infiammatoria disegnata originariamente per difenderci dalle infezioni diventa essa stessa causa di un danno a diversi organi. In questo modo noi vediamo che ci può essere una disfunzione del cuore, ci può essere una disfunzione del fegato e ci può essere una disfunzione dei reni. In questi pazienti le terapie disponibili sono varie e purtroppo all'inizio non sapevamo bene come affrontare il paziente Covid, mentre oggi siamo in grado di essere un po' più strutturati. Innanzitutto si è visto che utilizzando dei modulatori della risposta infiammatoria come per esempio il cortisone, nelle fasi molto precoce, produce un effetto protettivo. Produce un effetto protettivo perché limita il danno agli altri organi e quindi la malattia non viene curata, ma vengono mitigati gli effetti generali e sistemici del virus. Dall'altro sappiamo bene che in una fase un po' più avanzata farmaci di tipo antinfiammatorio e farmaci antivirali possono essere in parte combinati dando delle risposte che risultano spesso di beneficio per i pazienti. Alcuni pazienti addirittura arrivano a necessitare un supporto degli organi a livello extracorporeo, il che vuol dire che circoliamo il sangue attraverso filtri speciali e speciali dispositivi che assorbono i mediatori chimici di questa infiammazione, assorbono le sostanze dannose per i diversi organi e in qualche modo proteggono rene, cuore e fegato da un ulteriore danno. Studi in altri versanti vengono naturalmente portati avanti, per esempio utilizzando il plasma di soggetti guariti dall'infezione e quindi un plasma immune in cui possono venire selezionati degli anticorpi ed essere trasferiti al paziente in una sorta di immunità passiva. Cioè non è il proprio sistema immunitario, ma è quello del paziente, è quello del paziente, ma è quello del paziente guarito che fornisce una protezione. Naturalmente tutto questo poi andrà a trovare una vera e propria terapia nel momento in cui svilupperemo un vaccino o più vaccini che siano adeguati. Come abbiamo sconfitto in molti casi l'influenza stagionale, speriamo di poter sconfiggere anche il coronavirus. È una situazione con cui dovremmo convivere, è una situazione che abbiamo già vissuto in passato con la SARS, la MERS, la Viaria, l'H1N1, diverse forme di virus influenzali e non è escluso che in futuro si verifichino epidemie di altri virus. Certamente dobbiamo essere preparati, dobbiamo sapere che le terapie che abbiamo in mano in parte sono state dimostrate efficienti, ma che quando la sindrome si sviluppa in tutta la sua gravità dobbiamo addirittura ricorrere in qualche caso a delle terapie eroiche extracorporee, almeno finché il paziente è in rianimazione. Questo è il quadro clinico di tutta la patologia che un paziente affetto da COVID-19 può soffrire. Con questo io vi ringrazio dell'attenzione e spero che presto ci potremo rivedere con delle buone notizie.